allora oggi siamo a sassari zona la crucca castro un romano che sarebbe quello e stiamo organizzando la rievocazione storica per domani quindi questi sono i preparativi e le prove generali qua abbiamo il pezzo d'artiglieria con un artigliere che poi l'artigliere in teoria sarei io ma lì c'è il mio sostituto che è stra perfetto ecco vi facciamo vedere due cosine ci sono tutte le repliche dei pezzi qua abbiamo qualche arma e adesso andiamo la io logicamente in mano o un carcano 91 questa è la postazione di trincea con ricovero che è stata allestita sperivano diciamo ma c'è un signore che ha lozio dietro ambreda 37 e laggiù stanno spiegando ciao 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 Grazie a tutti.